Dopo i grandi disagi dell'ultimo weekend ha riaperto oggi la circolazione lungo via Trieste su entrambi i sensi di marcia. Sono finiti infatti i lavori resisi necessari per la riqualificazione dell'asfalto sulla principale via di collegamento fra Ravenna e il mare. Ieri, con ancora la strada chiusa in direzione di Marina, però il traffico è andato in tilt. Approfittando della giornata di bel tempo, infatti in molti hanno programmato una domenica al mare. Purtroppo tutte le auto, quelle dirette non solo a Punta Marina e a Lido Adriano, ma anche i veicoli con destinazione Marina di Ravenna, sono stati costretti a convogliare lungo la circolazione Canale Molinetto, creando di fatto un imbuto. Traffico bloccato, auto a passo d'uomo, decine e decine di minuti solo per compiere qualche metro. Già nelle settimane scorse i lavori erano stati al centro delle proteste di diversi cittadini ai quali il Comune ha spiegato come non era stato possibile trovare un altro periodo per poter risistemare l'asfalto. Durante il mese di maggio, caratterizzato da brutto tempo, i disagi durante i weekend sono stati contenuti. Nel primo weekend di giugno, però, con l'arrivo del sole, la situazione è deflagrata. Fortunatamente, oggi la circolazione è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia. Sono quasi due i chilometri di via Trieste riqualificati dal Comune nel tratto tra la rotonda del Ponte Mobile e il distributore Eni nei pressi del Cavalcabia. Dopo il Cavalcabia, i lavori erano già stati eseguiti dall'ANAS nei mesi precedenti. Proprio per non creare ulteriori difficoltà alla viabilità, ANAS e il Comune hanno deciso di non procedere contemporaneamente ai rispettivi interventi, onde evitare di bloccare tutta via Trieste da Ravenna a Marina di Ravenna. 850.000 euro l'investimento per le casse pubbliche.